Sono riuscito a far tornare la usp swarm in voga e quindi possiamo dire a tutti gli effetti che finalmente è tornato questo vecchio meta di warzone 3 con una build davvero molto caliente lo vedrete voi stessi in questa partita usp swarm nuova build nuovo setup meta vi colpirà ne sono sicurissimo al 100% lascia un like un commentino goditi questo gameplay pieno di slideate pieno di giocate dove vi faccio fuori letteralmente un sacco di team da 3 non vi voglio spoilerare altro ho già detto troppo classi a fine video lascia un like un commentino e iscriviti al canale non rimarrai assolutamente deluso grazie del supporto buona visione boys L'hai fatto quello? si nice c'era uno qua di fronte io c'ho un'arma io c'ho da pistola e adesso ho un pompa dai meglio di niente oddio bro bro te lo spacco io te lo spacco io guardalo lì lui trova l'arma io no per caso è morto ho uno sul tetto eh si ora è il primo che ho ucciso ora li faccio vedere io come si si gioca di movement ho ciccato pure il coltellino per poco non mi sono tutti i front bro ok gg bro via 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 Ficcino o sopra, no Poi ce l'ho finito in volo Ok Eh, c'è un altro qua però Ma perché non mi hai slidato? Madre mia, ho sempre con sto pompa Questa, questa siamo su un altro livello Voglio le botto lobby, voglio le botto lobby Ok, addio, non sopra eh Mi l'ho finito in livello Ruttore che c***o è Il team, il team, bro È nostra questa lobby, è nostra ora, è nostra Questi qua erano, secondo me, quelli più tosti È nostra Ross? Ross? bella per autostun così mi piace pensavo di averla a terra moda da rage, in questi giorni qua ho un po' frame lag, non so, devo secondo me pesetto un attimo il bios la prossima volta, non vorrei che fosse quello, oddio questi sopra? ma ci vedo tutti, eh stanno salendo erano sotto occhio quei stico sono forti l'hai fatto? eh qua c'è un altro movement king di sto c***o, uno a terra, si sta lessando, si sta lessando uno, siccome ti stanno segnalando, finora raga tutte le giocate carine che ho fatto per fortuna non mi hanno mai portato ad un banner, quindi sono abbastanza sereno raga, oh m***a mi cechinano bro mi ammazzano, non c'entrava nulla a questo qua sotto ci sono delle armi eh, se vuoi se sono diciamo che per le armi che ho appena visto forse è meglio non prenderle proprio ma... sono morto, sono morto sono morto, sono morto è pazzo di giovane, è pazzo eh sono un pazzo, sono un polle, fa sotto minchia bro, mi sacano tutti lo scudo, sai? ottimo mi fa star più tranquilla questa qua sono tutti qua sotto credo, però non... orco ho due, però quanti che... oh, questi quanti secondo me sono fuori eh sono tutti con lo scudo questi eh oddio bro, sono morto oh, sono mortissimo bro, sono morto io sono morto, dio caro ti prego, ti prego, ti prego, ti prego mi servono qua, non ci credo ai, tutti quelli che conoscono, tutti quelli sono eh va bene, guarda lì questi qua su, 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 su non penso proprio ciao